Ce ne sono una cinquantina Ce ne sono una cinquantina Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete visto nelle clip precedenti Quest'anno a Foss Fishing lo iniziamo in un modo tutto nuovo Con riprese pazzesche E soprattutto la ricerca delle carpe non sarà più la stessa Dunque mi raccomando ragazzi Superiamo i 100 like per questo video Per averne altri così è ancora meglio Ci sto un attimo prendendo la mano Però aspettatevi tanti bei video Dunque mi raccomando ragazzi Lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete over iscritti Credo di aver detto tutto Quindi via con il video Grazie a tutti Carpe ce ne sono Carpe ce ne sono Sento pesci qua sotto Sono passato sopra una carpa C'era una carpa qua sotto Ho visto il filo Guarda qua Che roba Che sbora Che sbora Carpetina piccoli Oh si è slamata Ce ne sono una cinquantina Ce ne sono una cinquantina Che sbora poi Oh no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti